Nando! 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 Che tu! Se tu mi spaventi tutti i clienti! Che tu! Vieni, vieni! Sarebbero 23 euro! 23 euro! Ma che tu la portate? Il cocchio della regina Elisabetta! Eh? Vai ciccio, vai! Se no te le sforno io tre pizze! Cargato! E tu vieni a portare queste pizze della tua figliola? È tanto brava la Baudina! Tanto brava e tanto buona! Non sa bene le lingue, voleva dire, ci vuole un po' di sfogge? Eh? Oh babbo! Che fai? Ma è la salsa sombrero? Sì, sì, con tre cucchiai tu vai al ciliceo! Ora stasera si guarda se deve vero, eh? No! No! No!